il quartier generale dei super pigiamini trasformabile elettronico con luci e suoni romeo inventa nuovi guai gatto boy interviene ma attenzione sta arrivando anche lunetta e con l'aij ninja della notte qui ci vogliono gli scudi di gecko e ai lupetti ci pensa gufetta pj musk's giochi preziosi pj seaker il gigantesco veicolo dei super pigiamini lo trovi solo nei negozi giocheria